Ciao tifosi, la partita Palermo-Juventus si è conclusa e io incomincio il video così Complimenti alla squadra rosa-nero e complimenti a De Zerbi Già dalla formazione io mi ero preoccupato perché avevo pensato che molti giocatori li voleva preservare per le partite più importanti Perché quella con la Juventus poteva essere abbastanza difficile da giocare e quindi magari ha deciso di fare il turnover anche per questo Infatti abbiamo avuto a posto di Nestorovski i Balog e poi abbiamo avuto anche a centrocampo gente come Ciocev e Iaialo, titolari Ragazzi, che partita è stata? Il primo tempo è stato un primo tempo molto attento da parte della squadra rosa-nero Mi ha veramente sorpreso, una gran bella partita La Juventus ha attaccato ma la difesa è riuscita a coprire bene i spazi Di fronte a un Posavec assurdo, eccezionale Forse la migliore partita del porterino rosa-nero ha fatto delle parate incredibili Soprattutto nel secondo tempo dove la Juventus dopo 1-0-0 ha cercato di fare gol Ma che gol ha fatto la Juventus ragazzi? Perché poi il Palermo l'ha persa la partita Ma come l'ha persa? Con un gol cretino Che più cretino non si può Praticamente Dani Alves fa un tiro, così prova Perché giustamente il Palermo è chiuso, non riesce a trovare spazi e il giocatore a cui dare la palla Tira da fuori perché lui comunque è dotato di un buonissimo tiro C'è una deviazione e viene beffato Posavec, non riesce ad arrivare E la palla entra in rete La Juventus passa in vantaggio così Inizialmente avevo pensato che la palla era stata deviata da un giocatore tipo Collanca In maniera dove aveva cercato in qualche modo di deviarla Ma quando ho visto il replay ho pensato Ma perché? Perché? Goldamiga avevi fatto una grandissima partita Avevi fatto una grandissima partita mercoledì E ora che cosa mi fai? Un colpo di tacco, non c'era motivo Non la dovevi toccare e magari Posavec Magari la mettevi in corner Comunque era un tiro abbastanza innocuo E tu che fai? La prendi col tacco Ma perché? Perché devi fare queste cose inutili? Per fare il figo Cioè io non so che dire Questo ragazzo ha delle buonissime potenzialità ma si perde in un bicchier d'acqua E già questo qua l'ha mai dato tanto tanto fastidio Perché il Palermo aveva giocato bene Perderla per un gol del genere dà molto fastidio Per il resto la Juventus secondo me non ha giocato bene Ha avuto molta difficoltà Molti palloni giocati male Anche sbagliati In maniera abbastanza evidente dai giocatori di Allegri E quindi poteva essere una partita che il Palermo poteva giocarsi bene Ha giocato veramente bene il Palermo Anche i titolari non prevedibili Balog ha fatto una grande partita di sacrificio Si faceva vedere alla squadra Era anche bravo sull'esterno a farsi vedere A comunque cercare di superare l'uomo A me non mi è dispiaciuto Ciò c'è per gli aia lo diciamo Non hanno fatto granché Però alla fin fine nell'interesse la squadra aveva giocato bene Poi De Zerbi cerca di cambiare qualcosa Mette Nesto Roschi Iliemark e Bruno Enrique Però diciamo che il Palermo poi cerca di attaccare Ma a me ha sorpreso l'atteggiamento della Juventus Perché la Juventus di solito è difficile che si accontenta di un 1-0 Cerca anche di fare il 2-0 per chiudere il match Invece no La Juventus fa il primo gol Poi fa qualche tentativa in successione Però poi si chiude in difesa E cerca poi con la ripartenza Una cosa che a me ha lasciato abbastanza perpleso Io se fossi nei tifosi juventini mi preoccuperei Perché è un atteggiamento che la capolista non dovrebbe assolutamente avere Per il resto che dire ragazzi Il Palermo ha giocato con la difesa 3 Che si è comportato abbastanza bene A parte l'erroraccio di Golden Che è abbastanza evidente Grandissima chiusura di Gonzales Sono sbagliato nel primo tempo su Higuain a botta sicura E poi posto avesse già ne ho parlato In attacco Diamanti si fa sempre vedere ragazzi Poi i neoi entrati non è che si sono fatti vedere granché Però verso la fine il Palermo ha attaccato in maniera evidente Molto evidente Grandissimo all'esame All'esame io lo critico certe volte perché in difesa quasi quasi mi fa venire i brividi Infatti quando è entrato Quadrado io ho detto siamo sfacciati Siamo proprio perché che cosa succede? Che Quadrado sull'esterno il suo avversario era l'esame L'esame in difficoltà è andato molto a disagio quando c'era gente come Higuain Quindi immaginatevi contro Quadrado Invece devo dire la verità Vabbè anche perché la Juventus non ha giocato granché bene Però ha fatto anche un recupero assurdo verso gli ultimi minuti su Quadrado Ed è riuscito anche a superare Quadrado Quadrado ha fatto una grandissima partita anche di sacrificio in difesa Però l'esame più volte nella fine del secondo tempo ha fatto dei cross bellissimi Purtroppo però i giocatori rosanero non sono riusciti a colpire questo pallone vagante in aria Il solo Nestorowski nella prima occasione e poi successivamente si è buttato anche Bruno Enrique in qualche occasione Però niente non siamo riusciti purtroppo a pareggiare il match Però ci abbiamo provato fino alla fine The Zerbi è stato un uomo di palola Abbiamo giocato per giocarcelo e non ci siamo chiusi al riccio E quindi sono contento di questa prestazione ragazzi Sono molto molto contento Speriamo che nelle prossime partite sia ancora increscendo il gioco dei rosanero Per il resto ora ragazzi forse non farò più le pagelle ecco Perché mi sono reso conto che in alcuni giocatori magari non davo i voti giusti Perché non sono un critico, non sono un giornalista Quindi davo voti molto personali Fatemelo sapere se le volete continuare ad avere Però sto di fatto che io posso fare una cosa Che faccio questi video commenti sulle varie partite E poi dirò il migliore di una squadra e il migliore dell'altra Per esempio il migliore del Palermo in questo caso è Posavez Ma proprio Posavez ragazzi Cioè non ci sono dubbi ha fatto parate incredibili E una da solo, se non sbaglio c'era Mandzukic E lui si allunga a prendere questa palla quasi a botta sicura E poi un pallone anche al volo di Mandzukic E lui lo para Insomma ha fatto parate veramente decisive E' stato molto molto bravo Quindi se lo becca lui il migliore in campo Per quanto riguarda Juventus è difficile È difficile perché non c'è stato un giocatore che si è distinto Il gol è arrivato in maniera abbastanza procambolesca Quindi non mi sento di dare migliore di campo a Dani Alves Però me lo sento di dare a Quadrado Quadrado è entrato in campo e ha giocato bellissimo Ha sbagliato poco Si è proposto in avanti E soprattutto in difesa ha aiutato molto la squadra In alcune occasioni si fa superare da Alessami Però secondo me è merito del tersino norvegese Che veramente si sta dimostrando un tersino abbastanza valido E ora sta anche dimostrando non solo di avere corsa una discreta tecnica Ma anche di saperla mettere dentro abbastanza bene con i suoi cross Quindi per la Juventus secondo me è Quadrado Anche perché mi è sembrato quello che ha giocato meglio Era il suo esordio quindi l'ho voluto primere così Ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo match Io sono contento di questa partita Fatemelo sapere nei commenti se lo siete anche voi Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video Condividete per far crescere il mio canale Iscrivetevi se ancora non lo avete fatto E al mio prossimo video Un saluto a tutti Ciao